Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale, mi chiamo Gianluca Ragnari Bandini, sono un trader e un investitore. Oggi vi mostro l'ultimissima operazione messa in campo sulla TWS, quindi la piattaforma di trading di Interactive Brokers, per quanto riguarda gennaio 2021. Dunque è un'operazione che dovrebbe garantirmi con una probabilità incredibile a livello teorico del 100%, e poi ora vi mostrerò il perché, e a livello pratico direi di almeno il 95% superiore, e il 6% di ritorno, in realtà poco meno, in 3 settimane. Quindi direi niente male. Se qualcuno mi dirice, mi scrive nei commenti, eh vabbè, mai poco, io con GameStop ho portato a casa il 2000% in un mese, lo banno, lo cancello per sempre. No, veramente ragazzi, quello che sta accadendo in questi giorni è incredibile. Spendo un minuto e mezzo, perché non mi va di farci sinceramente un video, tutti hanno già detto tutto al riguardo, però è veramente assurdo. Diciamo che io ne sto alla larga, invito chiunque a non intraprendere operazioni su GameStop, in quanto io porto avanti i miei investimenti e la mia operatività di trading da professionista. Che significa? Avere un atteggiamento imprenditoriale, quindi non fare le cose per divertimento, da scommettitore, da gambler, da ludopatico. Quindi certe cose andiamole a relegare alla SNAI, al Casino e giù di lì insomma alla Roulette. Non è questo l'ambito, non vedrete mai niente di questo sul canale. Anzi direi non solo andare alla SNAI, perché ci sono anche persone che cercano di avere un atteggiamento da pro, ma proprio fare le cose a casaccio per divertimento oppure per giocare in borsa e giocare alla guerra contro un hedge fund, divertirci tutti quanti su WallStreetBets, su Reddit e così, divertiamoci. Non è una speculazione intelligente, è una follia e queste sono persone che nel meglio lungo termine saranno destinate a bruciare i loro capitali. Insomma ci tenevo a dire questo e a spendere due parole. Ora però entriamo nel vivo del video e quindi proprio all'interno del mio schermo. Ci troviamo su un conto demo e io qui vi ho riportato come è finita l'operazione che ho ovviamente fatto sul mio conto reale su Facebook, che ve la ricordate due settimane fa. Ho venduto una put naked, quindi un'opzione, con scadenza 29 gennaio, quindi ieri, era venerdì, ora sto registrando, è sabato 30 gennaio, con strike 210. Quindi l'importante era che Facebook non arrivasse sotto 210 a livello di quotazione entro ieri. E secondo me era una cosa quasi impossibile e infatti a livello di probabilità stava intorno al 94%, che la cosa non accadesse. E per fare questa operazione ho incassato oltre 90 dollari, quindi insomma niente male. Ora ve ne condivido un'altra che secondo me è ancora più conservativa ed ha una durata, come abbiamo detto, di 3 settimane. Quindi dovrebbe scadere il 19 febbraio. Digitiamo SPY e quindi ci andiamo a prendere l'ETF dell'S&P 500. E qui ho fatto un'operazione molto simile a quella di Facebook, a livello di filosofia, approfittando di un aumento di volatilità. Quindi sono andato a vendermi una put naked. Molti di voi che mi seguono sanno cosa significa. Mi raccomando, seguitemi fino alla fine perché in ogni caso ve lo rispiego laddove voi non capiste bene quello che sto combinando. Quindi il significato dell'operazione. Allora, questa operazione scadrà il 19 febbraio del 2021. Mancano 20 giorni. Io ho preso addirittura una put 295 e ho incassato 101 dollari. Ho rivisto durante la sera, la sera intendo un'operazione che ho fatto circa le 7 alle ore 19 ieri e già verso le ore 21, 21 e 30 mi stava segnando un 40% di guadagno. Questo perché l'ho presa su un picco di volatilità giornaliero, di volatilità implicita delle opzioni. Ora, non ci passa quello che è stato l'ultimo scambio di prezzo. Noi cerchiamo di ricavarlo attraverso questo grafico a un mese linea. Dunque, vedete, io gli avevo messo 101 perché lo stavo osservando qui in questo momento qua. Mi è passato il contratto, come vedete, e poi è veramente crollato. Quindi, ora, sulla piattaforma reale dovrebbe segnalarmi già quasi un 50% di guadagno. Le spese di commissione sono state 1,08 dollari. Quindi, per l'esattezza, ho incassato 99,82 dollari, insomma. Che è veramente parente stretto di 100 dollari. Quindi, niente male. Ora, ci apriamo il grafico di SPY. Andiamo a 6 mesi giornaliero e vediamo come è collocato rispetto all'ETF che replica l'S&P 500. Guardate, sarebbe già incredibile vederlo su questi livelli supportivi. Questa zona qui, no? Fa 325 e 320. Questa zona supportiva. Sarebbe già incredibile vederlo qui entro metà febbraio. Ma io mi sono addirittura posizionato a un livello di 295. Quindi, stiamo circa il 20% sotto rispetto agli attuali livelli. E per questo che, a livello pratico, direi che stiamo vicini al 100%. Di probabilità che questo non avvenga. Vediamo, dal punto di vista, invece, ufficiale, probabilistico per come funzionano le opzioni, che probabilità di profitto, quindi che non vada, che non raggiunga quel livello 295 entro 20 giorni, qual è, secondo dico, la piattaforma. Ora, mentre aspettiamo che ci carichi qui l'ordine, io direi anche di entrare qui dentro, dico di nuovo, in maniera tale, ecco, ha caricato l'ordine. Allora, finiamo qui. Vendi. Io l'ho venduta 1.01. Metto anteprima. Profilo performance. Vediamo se ci restituisce la probabilità. Può darsi i ragazzi che non lo faccia, perché è una simulata senza dati reali in questo momento. sì, ce lo dà probabilità a profitto 100%. Quindi è questa, secondo lui. Cioè, ad oggi, una condizione del genere, secondo quelle che sono le probabilità, riesce sempre al 100%. Ed effettivamente, ragazzi, è un'operazione che ho fatto tutto il 2020. A volte incassavo anche molto di più con degli aumenti di volatilità implicita. Guardatelo qua, ragazzi. Guardate. Qui sotto, questa è la linea viola. È la volatilità implicita delle opzioni. Guardate com'è cresciuta negli ultimi giorni. È stra-aumentata. E quindi io ne ho approfittato. Perché all'aumento della volatilità implicita vi ha un aumento del premio delle opzioni che noi possiamo incassare. E poi basta un giorno positivo qui, eh, per vedere crollare letteralmente volatilità implicita e anche il prezzo dell'opzione. Quindi, se adesso non continua questo trend ribassista, si ricalma la situazione e ricomincia anche un trend rialzista proprio leggero, leggero. Io può darsi anche che fra una settimana me la vendo, o meglio, scusate, vuol dire, mi chiudo l'operazione e quindi mi riacquisto l'opzione pagandola il 90% in meno, per dire. Ma io in realtà la lascerò aperta perché non ha senso chiuderla. È inutile. Butto via soldi. Non ho bisogno di liberarmi margine perché quando voi fate questa operazione il broker vi chiede un margine. Quant'è questo margine? Nel mio caso specifico, perché da conto a conto cambia, mi ha chiesto 1700 dollari, poco di più. Se prendete la calcolatrice, 100 dollari, in termini percentuali, quant'è di un ritorno di un investimento di 1700, vi esce fuori circa 5,88. Per questo è il 6% circa in tre settimane, con una probabilità del 100%. Diciamo, questi secondo me sono delle operazioni che chiamo soldi facili. Per me è sempre stato così. Nel 2020 mi sono portato a casa circa 2150 dollari con questo tipo di operazione. Quindi vendendo sugli aumenti di volatilità o durante le fasi alte di volatilità delle put naked sull'S&P 500 tramite l'ETF e SPY molto a TN, ben al di sotto. E non sono mai ovviamente stato assegnato. Sul picco di volatilità di metà marzo dello scorso anno, addirittura questi 100 dollari potremmo incassarli non con tre settimane diciamo di scadenza, ma con un orizzonte anche di 24 ore con la scadenza un giorno. Ma non così OTM, ma abbastanza OTM. È stato veramente qualcosa di credibile. Confido quest'anno di potermi portare a casa circa 1500 dollari. Non so se riuscirò anche quest'anno 2000 dollari semplicemente con questa operatività qui. Una delle tantissime cose che faccio. Ma, se dovesse accadere il cigno nero più incredibile della storia, quindi già dopo un ribasso di 3-4-5 punti percentuali, l'S&P 500 ci fa un meno 20% in due o tre settimane, e quindi ci va al di sotto dei 295, io sarò obbligato a comprarmi 100 azioni a 295, quindi di questo ETF. È un esborso monetario di 29.500 dollari, e ovviamente per mantenere quella posizione il broker mi richiederà meno, quindi circa un quarto dovrebbe richiedermi, quindi 7-8.000 dollari, per mantenere aperta l'operazione. Nulla di così sensazionale per quello che è il mio money management. Inoltre, diciamo anche che sarebbe una bella acchiappata secondo me, quindi poi le probabilità holdando 100 azioni di questo ETF a 295 di fare molti soldi nel tempo sono altissime, addirittura uno dovrebbe prendere poi quello che è un rimbalzo e portarsi a casa diverse migliaia di dollari. Da dove invece si creasse una sorta di mercato recessivo, potrebbe benissimo attendere, ma sarebbe già un ingresso rispetto ai massimi storici dell'S&P 500 di un 25% sotto. Quindi massima tutela. Io volevo raccontare questa operazione qui, ma al 99% direi che non c'è nessun rischio assegnazione. Dovesse capitare anche l'1%, va bene così. Ecco, queste sono delle operazioni che mi fanno dormire di sonni tranquilli, ma veramente tranquillissimi. Questa addirittura è ancora più conservativa rispetto alla vendita di opzione Naked 210 su Facebook di due settimane fa. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate e poi magari più avanti vi comincerò a raccontare qualche operazione un po' più complessa, un po' più speculativa. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Io vi do appuntamento a prestissimo, un bel like e buoni investimenti a tutti ragazzi. Ciao! Ciao! Grazie a tutti